buongiorno tappa del tour del tg com tour tema come al solito la ripartenza le leve del governo cioè delle istituzioni che governano il territorio e della formazione quindi dell'università qui ho due ospiti in puglia dove siamo venuti a una tappa importantissima pre natalizia però in realtà siamo capitati in un momento chiave prima di tutto il presidente della regione puglia emiliano michele emiliano che ci ha ospitato in questo bellissimo teatro perché poi questo teatro alla fine è passato alla regione lo abbiamo acquistato acquistato perché dopo tante storie questo è un teatro del 24 è un teatro antichissimo passato i privati riuscivano a gestire teatro adesso è molto più complicato certo però è bellissimo questo è il cursal così si chiama però poi ha avuto varie varie traversie e poi il rettore del politecnico di bari a bari sono parecchie università nella giornata di oggi sentirete anche altri rettori ma noi abbiamo scelto per questo inizio il politecnico perché ha una sua qualità di eccellenza che non è solo locale ma è nazionale credo addirittura internazionale poi ce lo spiegherà il rettore comincio subito perché dicevo le leve della ripartenza è il tema del tour del tg com tour lo è stato a palermo lo è stato naturalmente a milano lo è stato a bologna sono tutte regioni che hanno ricominciato anche la puglia ha una ripresa forte però adesso ci si sta ci dobbiamo confrontare con una nuova fase del covid e quindi siamo in una transizione siamo in una transizione in cui il governo deve governare quello che deve fare sempre per la salute dei cittadini ma deve anche guardare avanti per gli investimenti che le aziende richiedono le aziende saranno presenti come al solito nelle tavole rotonde per tutta la giornata presidente emiliano la difficoltà di questa doppio ruolo naturalmente adesso abbiamo dopo un anno e mezzo di esperienza una strategia anti covid che non blocca l'economia perché purtroppo nella prima fase non avevamo altro mezzo che chiudere tutto quindi sia chi doveva lavorare chi doveva acquistare chi doveva andare in giro a fare il proprio business doveva rimanere in casa perché era l'unica arma di cui disponevamo e questo ha provocato un danno gigantesco talmente grande che l'unione europea ha disposto uno strumento per riparare questi danni a tutti i paesi dell'unione europea che si chiama pnrl naturalmente questo strumento dovrebbe in teoria riportarci dove eravamo prima del covid la puglia era andata molto avanti prima del covid avevamo dati economici straordinari eravamo assieme alla lombardia la regione che tirava di più che aveva utilizzato meglio i fondi europei aveva attratto investimenti anche da parte di una locomotiva del sud diciamo diciamo così adesso senza trionfalismi perché parliamo sempre di quei punticini di pil di cui parlavamo prima del covid cioè eravamo quattro punti e mezzo di pil in qualche anno quindi poca roba rispetto a quello che stiamo facendo adesso perché il recupero dell'economia italiana dell'economia pugliese adesso è nitido naturalmente come dicono i tecnici è un rimbalzo cioè stiamo recuperando quello che avevamo adesso bisognerà capire anche attraverso la capacità che avremo di innovare tecnologicamente perché il covid ci ha messo proprio di fronte a questa necessità come le aziende reagiranno e come probabilmente anche in qualche caso recupereranno spazi di competitività grazie alla minaccia del covid perché glielo dico sinceramente molte cose che non avevamo chiare adesso sono diventate più chiare dopo il covid anche per esempio in sanità dove è cambiato tutto alla testa delle persone perché prima pensavano solo a pareggiare i bilanci a Roma adesso si sono resi conto che la sanità è un fattore dell'economia e non il contrario. Molti presidenti mi dicono noi adesso buona parte di questi fondi li investiremo nella sanità. Si ricorda che all'inizio ci fu addirittura una polemica di prendere proprio fondi per la sanità e si diceva no è una cosa del governo è una competenza poi nazionale anche se viene amministrata dalle regioni però molti presidenti mi dicono no noi investiamo e voi anche investirete voi avete avuto un cambiamento una trasformazione no? Abbiamo già investito in un anno e mezzo ciò che non eravamo stati capaci di fare in vent'anni precedenti ma soprattutto è cambiata la testa cioè noi abbiamo finalmente assieme a tutta l'Unione Europea capito che il problema non è pareggiare il bilancio non si vive per pareggiare il bilancio si vive per aumentare la qualità della vita quando aumenti la qualità della vita tra i più investimenti l'economia tira di più e ha i fattori di sicurezza perché se avessimo avuto oggi cioè due anni fa la rete che abbiamo oggi antipandemica se avessimo fatto in Europa i piani antipandemia avremmo evitato danni catastrofici dal punto di vista economico e quindi tutti diciamo quelli puristi del bilancio europeo si stanno mangiando le mani per non avere rafforzato prima questa funzione che non era proprio finanziata dall'Unione Europea cioè l'Unione Europea ci impediva di utilizzare i soldi europei per gli ospedali solo per la sanità territoriale. Sì me lo ricordo invece voi avete anche un problema di cambio qui perché ora siete in una fase di cambiamento anche del responsabile della sanità in regione no? Approfittiamone per capire meglio. Diciamo che qui abbiamo una serie di esperienze che sono state fatte in passato ovviamente esperienze anche controverse per certi versi perché Rocco Palese è una di quelle personalità che è stato dall'opposizione una persona stimata dal mio predecessore Nichi Vendola stimata da me stimata da tante persone. Questa è un segno comunque è un segno di cambiamento è un segno. Se voi abbiate scelto in una in una situazione così delicata un assessore che viene dall'opposizione che però avevate un rapporto. In realtà lui ha rapporti umani splendidi con tutti noi è un nostro dipendente cioè un dipendente del sistema sanitario regionale. Ora per avventura è stato anche un politico molto bravo e molto impegnato nel fronte dell'opposizione però qui anche le relazioni tra maggioranza e opposizione non sono drammatiche cioè nel senso che al momento opportuno collaboriamo come se fossimo un'unica squadra e quindi ho chiesto a Rocco di darmi una mano in un momento un po' complicato anche perché abbiamo scoperto che trasformare diciamo la società civile un accademico bravissimo anche devo dire molto simpatico come Pierluigi in un politico non è facile. La fatica della politica e il rettore ne sa qualche cosa perché lui fa politica universitaria è molto più difficile da gestire per una persona normale di quanto ci si aspetti. mi ha già passato la palla nel campo del rettore il presidente prevede e cioè dice adesso ho parlato abbastanza no 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 è vero parlerete ancora adesso però cerchiamo di capire qual è l'incrocio perché la parte istituzionale ci mette una sua attività una sua passione anche chiamando in campo persone diverse no però poi le aziende chiedono sostegni e quelli pure devono essere ragionati ma chiedono soprattutto formazione chiedono che ci sia sul territorio questo l'abbiamo riscontrato in tutte le situazioni del tour chiedono che sul territorio ci siano scuole di eccellenza e soprattutto sbocchi finalizzati a far restare poi i laureati i giovani che si sono formati sul territorio allora noi abbiamo scelto il rettore del Politecnico Cupertino perché il Politecnico ha delle iniziative se vogliamo di grande di grande sviluppo e di grande attenzione con aziende nazionali e internazionali voi siete un'università che si muove molto fuori dai confini qui del territorio e però con risultati ottimi ce ne parla un attimo certo in in questi anni come accennava prima il presidente emiliano in pula puglia è stata capace di attrarre investimenti di grandi aziende multinazionali che hanno portato qui delle attività di ricerca e sviluppo e nell'ambito dell'attività di ricerca si sono attivate delle collaborazioni anche con l'università noi abbiamo inaugurato il modello che abbiamo chiamato laboratori pubblico privati che consistono in iniziative che si localizzano nell'ambito dei laboratori del Politecnico quindi ci sono aziende che portano i loro ricercatori nei laboratori del Politecnico e insieme ai docenti agli studenti ai dottorandi portano avanti sia attività di ricerca sia attività di sviluppo abbiamo cominciato con una grande azienda nell'ambito aeronautico più di dieci anni fa avio che è un'azienda nazionale che è un'azienda molto molto importante qualche giorno fa è stato c'è stato il primo volo di un velivolo che monta un motore aeronautico il cui cervello la centralina di controllo di quel motore è stata integralmente progettata e sviluppata nell'ambito dell'iniziativa al Politecnico di Bari quindi siamo partiti da attività di ricerca di cosiddetta di base e siamo arrivati fino alla certificazione di componentistica per il mondo aeronautico diciamo che c'è la realizzazione di un intero aereo di un intero modello di aereo fatto tutto qua non è una cosa poco significativa in Italia erano molti anni non si non si riprogettava per parte un motore aeronautico sono competenze importanti noi siamo fornitori di altre questioni sistemi d'arma sistemi di volo però siamo specializzati molto nel mondo però la realizzazione di un intero aereo col motore e tutto è una vostra eccellenza è stato un po' da attrattore per altre aziende che hanno deciso di imitare un po' questa esperienza ad oggi contiamo 15 laboratori pubblico privati con aziende che sono anche locali c'è il gruppo Casillo che si occupa di trasformazione del grano con i quali collaboriamo per sviluppare tecnologie che possano durante il processo di produzione del grano già misurarne la qualità anche organolettica di prevedere quale sarà la qualità della farina l'ultimo in ordine temporale è quello con Comau nell'ambito della robotica tutte queste esperienze sono state estremamente significative ma ci hanno fatto anche ragionare sulla possibilità di allargare il coinvolgimento ancora di più alle piccole e medie imprese del territorio che continuano a costituire l'ossatura del territorio economico regionale quindi la sfida dei prossimi anni sarà quella di riuscire a creare dei contenitori capaci di dialogare con le piccole aziende del territorio immaginiamo di creare dei laboratori tematici su delle verticalità che potrebbero essere le tecnologie spaziali per esempio che è un'altra vocazione tipica pugliesi piuttosto che l'industria della creatività e all'interno di queste verticalità riuscire ad associare delle piccole e medie imprese che possono collaborare insieme con dei laboratori universitari dobbiamo sempre di più stringere quello che è il legame tra già gli studenti mentre sono nel percorso di formazione far conoscere quali sono le prospettive occupazionali col territorio ma soprattutto seminare la capacità imprenditoriale all'interno dei nostri studenti dobbiamo riuscire a portare i risultati della ricerca all'interno delle aziende ma anche aiutando a costruire nuove iniziative imprenditoriali c'è un esempio di cui parlavamo prima quello della tuta spaziale che sembra quasi una cosa che in Puglia si possa realizzare una tuta spaziale c'era un'azienda pugliese che era specializzata in tessuti per i costumi da bagno per competizione quindi avevano esperienze nell'ambito di questi tessuti hanno realizzato un oggetto che comprime la muscolatura e aiuta l'astronauta in microgravità a compensare gli effetti deleteri per il corpo dovuti alla perdita di gravità questa esperienza nell'ambito mentre eravamo lì a studiare i materiali in laboratorio si sono incontrati dei gruppi di ricerca che nel frattempo sviluppavano componentistica elettronica flessibile per lo spazio era un gruppo di dottorandi del Politecnico di Bari che aveva vinto un hackathon di livello europeo hanno integrato i circuiti elettronici flessibili con la tuta adesso la tuta è diventata un oggetto intelligente che sente il movimento del corpo dell'astronauta e fa un'elettrostimolazione che ricrea lo stress muscolare che avverrebbe in presenza di gravità e quindi ovviamente abbiamo pensato che potesse essere utile anche per la riabilitazione sanitaria quindi questo tipo di tecnica potrebbe essere utilizzato negli ospedali certo, perché la riabilitazione è al posto di un certo tipo di terapia il metodo che il Politecnico adopera stimola la creatività perché dalla ricerca di base si arriva a tutti i tipi di applicazioni anche a quelli assolutamente imprevedibili nel momento in cui hai cominciato viene progettato, sì tra l'altro voi esporrete, esporrete, portate questa vostra esperienza anche all'Expo, no? siamo già stati e torneremo a marzo con questo, ed è un'eccellenza italiana in campo internazionale perché è all'Expo lei è uno dei rettori più giovani d'Italia, forse il più giovane, forse, non lo so perché adesso stanno cambiando alcuni rettori però, no, è vero e ha detto una cosa il Paolo Limone di Foggia ha quanti anni ha? è lui il più giovane è lui il più giovane comunque in Puglia abbiamo due dei rettori più giovani d'Italia in Puglia abbiamo due rettori che sono il primo e il secondo più giovane però la cosa che ha detto prima, che ha spiegato bene il meccanismo del rapporto col mondo del lavoro è simile, è quell'eccellenza quasi identica a quella che noi, col Tour abbiamo sentito intervistando il Politecnico di Milano il rettore del Politecnico di Milano che ci diceva guardate da qui non c'è gente che noi laureiamo che mandiamo avanti che poi dice sai devo trovare un lavoro da qui è finalizzata il lavoro e spesso anche all'estero non perché fuggono ma perché all'estero dicono Politecnico di Milano Scuola di Pisa Politecnico di Torino Politecnico di Bari fanno degli elenchi di persone che escono da università di questo genere da formazione di questo genere e sono già eccellenze ora le chiedo e poi ripasso di nuovo al Presidente le chiedo però per fermarli per ottenere dei risultati per ottenere una collaborazione con le imprese qui che lei ha accennato voi la cercate che manca per dire i nuovi laureati pugliesi restano a disposizione della Regione dobbiamo migliorare l'attrattività migliorare l'attrattività vuol dire continuare a rinnovare l'offerta formativa far trovare dei luoghi della formazione che siano all'altezza delle aspettative dei ragazzi il Covid ci ha costretti a fare una trasformazione digitale delle aule adesso stiamo lavorando per migliorare ulteriormente l'esperienza degli studenti stiamo investendo per esempio sui sistemi di visione tridimensionale che consentono delle esperienze immersive agli studenti è possibile visualizzare un oggetto un quartiere di una città un motore aeronautico in modo virtuale dobbiamo stringere i rapporti già durante i percorsi di formazione con le aziende del territorio dobbiamo permettere agli studenti di rendersi conto quali sono le realtà produttive che già ci sono in Puglia perché spesso manca anche la conoscenza c'è un'attrazione verso le grandi multinazionali perché sono anche più conosciute in Puglia ci sono una serie di eccellenze che dobbiamo avvicinare al mondo dell'università qualche giorno fa abbiamo lanciato un'iniziativa per il finanziamento da parte delle aziende del territorio di borse di studio per tesi di laurea sui temi del PNRR in modo tale che già gli studenti possano svolgere il loro progetto di tesi in collaborazione con un'azienda del territorio e quindi cominciare a creare un legame che magari poi possa aiutare a trattenere i nostri giovani talenti sul territorio pugliese eh certo Presidente la stessa domanda no la stessa domanda no è perché è importante la giro un po' poi arriviamo alla stessa domanda lei ha detto ha fatto prima un paragone tra la Puglia e la Lombardia ma questa è una regione molto più complicata anche da un certo punto di vista qua si passa dagli ulivi alle tute spaziali dall'acciaio di Taranto alle cose qua bisogna fare innanzitutto Milano è la seconda città della Puglia questo lo sanno tutto questo è il numero di Pugliesi lo rivendico però questa è la stessa domanda però diciamoci la verità adesso parlo ai ragazzi e alle ragazze è chiaro che fa molto più figo come dicono loro dire di lavorare per una grande multinazionale per un gruppo molto famoso della moda però se dopo ti fanno fare un lavoro modesto di puro completamento diciamo così e ti pagano anche poco e devi pure stare lontano da casa qui fuori i telespettatori non vedono la meraviglia che c'è qui fuori perché noi guardiamo il mare ma io guardavo dalla finestra perché questo teatro affaccia sul mare è chiaro che si rischia di perdere e di non far trovare ad aziende pugliesi o in generale italiane anche più modeste il personale che gli serve perché vengono attratti da chimere che molto spesso non portano a grandi risultati dal punto di vista della carriera personale invece alle volte appassionarsi al progetto di una piccola ma intraprendente impresa del mezzogiorno che vuole fare innovazione che entra nel mercato cambia le regole in molti casi può essere più divertente in più si vive vicino casa le mamme e i papà sono più contenti perché noi non è che li vogliamo tenere qua diciamoci la verità noi vogliamo che girino e che però se gli va di stare qui possano stare qui e quando sono obbligati ad andare via che la cosa non funziona e devo dire da questo punto di vista noi abbiamo fatto un ragionamento anche molto innovativo dal punto di vista delle burocrazie lo dico chiaro per esempio tanto per cominciare il mio capo di gabinetto non è un notaio della giunta è una persona che ha sempre fatto nella sua vita professionale l'attrattore o il suggeritore di investimenti quindi è il primo soggetto l'avvocato Stefanazzi che si comporta in un modo completamente diverso poi è chiaro che c'è anche il notaio che è il segretario generale della giunta e tutta la macchina burocratica è stata orientata all'attrattività perché se tu non interessi vari soggetti non puoi competere su delle partite dove l'investimento è tra la Germania la Francia e l'Italia l'Italia la Puglia e in Puglia perché qui e devi avere quella capacità come la vogliamo chiamare commerciale che devo dire è pugliese anche ma in passato ci sono state aziende noi siamo dei grandi commercianti in passato ci sono state aziende pugliesi che sono in tutto il mondo eh certo per esempio la Calabrese di Bani è una splendida azienda e quindi questo lavoro ha fatto sì che l'efficienza nell'impiego dei fondi europei derivi da burocrazie classiche che si sono evolute anche esse che stanno richiamando giovani ma hanno anche persone di grande esperienza che hanno fatto della Puglia la prima regione italiana nella spesa dei fondi europei sono pochi questo è il punto perché con 7-8 miliardi in 6 anni che non è che si fanno i miracoli se noi avessimo più soldi sarebbe straordinario perché potremmo attrarre ancora di più questo PNRR qualche brutta notizia bisogna pure darla in verità io ho il timore che verrà utilizzato solo per completare opere già cantierizzate e che alla fine non abbia il valore rivoluzionario che i media le stanno attribuendo al PNRR ma comunque come si dice è meglio che un cazzotto in un occhio cioè va bene anche così purché tutte le risorse liberate nazionali grazie al PNRR siano utilizzate in modo strategico e noi siamo pronti a negoziare col governo questa seconda fase del PNRR che è costituita dalle risorse per esempio dalla Napoli-Bari che era già finanziata che adesso verranno utilizzate i fondi del PNRR ma il miliardo e 7 che viene liberato deve essere lasciato alla Puglia e alla Campania è chiaro ha detto una cosa però che la porta subito su un altro livello un altro terreno che io apprezzo perché lei ha un po' questa caratteristica ha sempre avuto una forte capacità attrattiva talmente forte che il secondo mandato è arrivato quasi di impeto in un momento difficile in un momento che pochi mesi prima forse c'erano pure persone che non avrebbero scommesso il centro-sinistra aveva perso tutte le regioni aveva perso tutto qui in altre parti per esempio in Campania ci sono state delle persone che hanno avuto una forte attrattiva anche personale però anche politica questo può creare un punto di attenzione ma anche di frizione rispetto al governo e alla politica la cosa che ha detto adesso non è indifferente perché se il PNR va a coprire opere già finanziate qui guardiamo ai bilanci passati a c'è quei finanziamenti dove vengono utilizzati come vengono utilizzati questa è la scelta politica lei per queste scelte si candida a qualcosa di diverso dal semplice presidente della regione Puglia cioè dico magari con altri presidenti di regione non dico che sia per carità il partito di Emiliano non credo a questo allora però io penso che per esempio per la Puglia che vanno dette anche i punti di debolezza perché bisogna averli chiari noi siamo l'unica regione che non ha per metà l'autostrada è una cosa senza senso cioè da Bari a Lecce non c'è l'autostrada e devo dire che questo crea notevoli problemi perché una delle province che tira di più dal punto di vista economico è proprio all'inverso da noi è il sud che tira rispetto al nord e questo ovviamente va anche turistico anche turistico anche turistico anche se il Gargano è la quarta quinta metà turistica italiana però il Salento ha una sua capacità generale di attrazione che è formidabile e che va aiutato stiamo collegando l'aeroporto di Brindisi con la stazione e ci vogliono strade migliori più accessibili meno scomode più sicure allora è chiaro che una partita del genere o l'alta velocità da Bari a Lecce sono due partite fondamentali che però vanno interpretate assieme agli altri presidenti nel senso che i presidenti delle regioni che oggi hanno un grande potere questo va detto cioè oggi tra fare il ministro e scegliere di fare il presidente della regione normalmente uno sceglie di fare il presidente della regione perché dentro i governi i ministri hanno dei ruoli spesso molto strozzati temporanei durano pochissimo io sono qui tra sindaco di Bari e presidente da 20 anni quindi ho avuto modo di prendere le cose iniziarle e con l'aiuto di tutti portarle ad ulteriori conseguenze a Roma questo tempo non viene dato a nessuno questa è una cosa che deriva dalle leggi adesso si può provare a fare una cosa del genere cioè a fare un programma per il mezzogiorno e per l'Italia che utilizzi bene le risorse liberate però nessuno ce ne parla cioè sembra che le risorse liberate le dice ma che mi chiamo Peppino come diceva esatto mica sono io lo schiaffo l'hai dato a quell'altro però però presidente lei ecco e perciò glielo chiedo perché so che queste cose un po' bisogna stimolare ma lei accetta il confronto la farebbe qualcosa la proporrebbe qualcosa potrebbe essere iniziatore di qualcosa di una proposta in questo senso perché nessuno ve ne viene a parlare però forse ne dovrete parlare voi ovviamente i presidenti delle regioni forse i presidenti delle regioni assieme ad altri componenti dei consigli regionali votano per il presidente della repubblica sono 60 voti è certo è chiaro che noi stiamo sperando che le forze politiche siano in grado di creare un accordo che assieme al presidente della repubblica individui anche il futuro del paese perché separare le due cose sarà difficile dato anche il contesto cioè è possibile che il presidente della repubblica prossimo non sia semplicemente un arbitro raccolto tra i professori di diritto ma sia qualche cosa di più complesso sia portatore comunque di un progetto più generale di un progetto diverso quasi doverosa per loro ma tutti gli altri mi ha fatto molta impressione questa frase che ha detto due giorni fa Salvini che ha detto ma come ora che io mi sono messo nel suo governo anche con Letta vuole andare via Draghi mi ha colpito per la... adesso lei ricorderà che ho fatto scandalo quest'estate per essere stato gentile con Salvini sì anzi è stato molto cavalleresco e la cosa buffa è che proprio alcuni esponenti del Partito Democratico che è il mio partito di riferimento contestavano questa mia gentilezza con Salvini premesso che noi ce l'abbiamo l'opposizione qua alla Lega e io dicevo a questi miei compagni di partito ma voi ce l'avete nel governo siete insieme io non posso essere gentile con l'opposizione peraltro temo che dovrete essere molto gentili tra di voi perché dovrete eleggere il Presidente della Repubblica quindi cercate di andare d'accordo e di non farci trovare noi che stiamo lavorando dalla mattina alla sera le cose più concrete di non farci trovare con un paese ingovernabile però lei ha lanciato un messaggio qui per i Presidenti delle Regioni e per le Regioni se fossimo d'accordo su quello che bisogna fare potremmo anche essere più decisivi nell'indicare non sono bravo in matematica ma 60 voti se le Regioni votassero 60 voti con una forte attrattiva anche su parlamentari che in questo momento vivono una situazione di un mix però sono tanti è il momento per le Regioni di far valere il proprio peso politico perché in questo periodo c'è stata una specie di piccola congiura va chiamiamola così lo dico involontaria è una congiura involontaria contro le Regioni prima si è provato a dare la colpa alle Regioni di tutto ciò che non funzionava in sanità poi si sono accorti che senza le Regioni il Covid non l'avremmo mai sconfitto perché la sanità è strutturata in questa maniera adesso è il momento lo dico anche a Massimiliano Federica che è il mio Presidente io sono il suo vice nella conferenza delle Regioni è il momento per le Regioni di diventare protagoniste di una logica istituzionale quindi non di parte che dia al Paese quella stabilità di governo che purtroppo le regole costituzionali ancora non consentono perché di Draghi abbiamo bisogno avanti questo l'ho detto mi scappate di Draghi abbiamo bisogno ma dove in un modo in un altro ne abbiamo bisogno quindi lei su questo non fa scelta ma è troppo divertente mi sta provocando anche perché io ho parlato di recente con l'altra coppia che era prima alle Regioni Bonaccini-Toti che voi avete sui seguito Federica-Emiliano e un po' dicevano le stesse cose non è che dicevano cose molto diverse dalle vostre dovremmo confessare che io e Massimiliano non so se siamo amici ma siamo molto sintonizzati su tantissime cose lui e della Lega e io sono il Partito Democratico e la stessa cosa valeva tra Stefano e Giovanni perché effettivamente viste dal punto di vista di chi ha un problema da risolvere le cose spesso sono identiche lei ha detto di Draghi e mi dispiace ho preso questo canale sto un po' trascurando il Rettore ma torno subito però è troppo interessante credo pure per lei perché Emiliano si è lasciato andare di Draghi abbiamo bisogno io gli ho chiesto dove non lo so però in qualsiasi caso ne abbiamo bisogno la catastrofe sarebbe se ci dicesse che pensa di aver esaurito il suo compito questo sarebbe un dramma c'è qualcuno che dice ma lui non dice niente è chiaro che non dice niente non deve dire niente questo è chiaro però anche questo fatto che non dice niente richiama ad un'altra cosa che lei ha detto prima e cioè è vero hanno accusato Draghi lui passa i partiti e va avanti dritto a un certo punto però il governo Draghi ha passato pure le regioni io non lo dico ma lo vedo e lei pure l'ha un po' accennato ora bisogna tornare sul PNRR perché devo essere sincero io non avevo capito che il PNRR sarebbe stato utilizzato quasi totalmente per progetti già esistenti e quindi a quel punto forse ha avuto ragione lui perché era inutile creare addirittura l'aspettativa che le regioni potessero fare chissà che cosa è stato meglio dare un po' di soldi ai comuni e poi chiudere la partita e far gestire tutto ai ministeri però ora bisogna pensarci però adesso ci sono le risorse liberate ma questa frase che ha detto adesso il presidente Emiliano penso che sia chiara di Draghi abbiamo bisogno naturalmente la sua paura come ho letto anche sui giornali da molte parti è se si dovesse andare qui ci sarebbe per sette anni se non ci dovesse andare non sappiamo se ci sarebbe dopo due anni questa è la sua preoccupazione e credo l'ho letta quindi la riferisco non bisogna essere degli scienziati però torno a lei l'università in questo divisione le faccio questa ultima domanda e la faccio chiudere si sente trascurata perché si sta utilizzando un vecchio schema come quello che diceva un po' il presidente per i lavori per le opere già realizzate oppure si aspetta degli incentivi di un intervento più forte L'università ha una quota rilevante del PNRR il piano per l'università vale circa 7 miliardi 7 miliardi è quanto si spende in Italia ogni anno per l'università quindi sono cifre significative bisognerà avere il coraggio di fare delle scelte perché non potremo se queste risorse fossero ripartite in tanti rivoli e ciascuno ottenesse una piccola quota avremmo un impatto immagino trascurabile sulla nostra capacità di cambiare il sistema bisogna seguire le vocazioni dei territori seguire le vocazioni dei singoli atenei e cercare di puntare su puntare una fish su qualcosa che può cambiare la Puglia ha delle vocazioni abbiamo già nominato lo spazio immagino l'energia per esempio come uno dei temi che contraddisingue la Puglia e tutto il meridione che in una transizione ecologica sarà il luogo che probabilmente continuerà sempre di più a produrre l'energia per tutto il resto del paese queste tecnologie emergenti tutto ciò che sarà legato all'idrogeno sarà sicuramente una delle cose su cui continueremo a lavorare la produzione di energia eolica offshore perché immagino che non potremmo riempire il paese di pannelli fotovoltaici e di paleoliche e sicuramente tutto quello che è legato all'economia del mare che è un'altra cosa la Puglia e la regione italiana con più chilometri con più chilometri mettere insieme il presidente della regione e il rettore perché avrete notato che sia pure con aspetti specializzati parliamo delle stesse cose ma è la quarta tappa del tour e qua mi date l'occasione di concludere è la quarta tappa del tour e noi l'abbiamo svolta sempre così il presidente della regione perché è il governo del territorio il rettore dell'università più importante ed eccellenza perché è il punto a cui tutti guardano per la formazione diciamo così che se no poi andiamo a fare a botte quando usciamo è una delle più importanti ma noi abbiamo pensato questo l'università no a noi è sembrata significativa il Politecnico di Bari ci sono tante altre università ma li avremo oggi pomeriggio li avremo anzi ne approfitto per dire che avremo poi alle due un'altra tavola rotonda dove ci saranno istituzioni e ci saranno anche gli altri rettori abbiamo scelto il Politecnico di Bari per quelle cose che poi ci ha raccontato Avio le collaborazioni scelte questo problema lo potremmo risolvere con un Politecnico della Puglia ma per esempio a Milano abbiamo scelto per esempio a Milano abbiamo scelto il Politecnico di Milano ma siccome a Palermo avevamo portato il Rettore della Bocconi perché quanti giovani della Sicilia o del Sud vanno poi all'eccellenza della Bocconi ci sembra di aver dato comunque io vi ringrazio tutti e due il Rettore ha lanciato l'idea del Politecnico della Puglia che io sostengo che lei sostiene e che anche noi ci impegneremo a sostenere perché è un'idea giusta ora vi do gli altri appuntamenti alle due c'è un'altra tavola rotonda importante istituzionale e anche di esperti di protagonisti della formazione stasera alle 20 e 30 andrà in onda su TG Com una tavola rotonda anche con le imprese che registreremo naturalmente nel pomeriggio io vi ringrazio tutti e due per il contributo che avete dato ringrazio in particolare non è per simpatia che poi è antica ma ringrazio il Presidente per l'ospitalità perché per noi è importante e poi per la franchezza con cui ha accettato questo colloquio perché qualcosa l'ha detta rispetto alla prudenza che oggi ci deve essere anche che circola saluto naturalmente chi ci ascolta dallo studio perché tutto viene trasmesso da Milano e ci rivediamo alle due con un'altra tavola rotonda qui da questo bellissimo teatro Cursal sul mare di Bari un teatro vecchio antico del 1924 Liberty bellissimo ve lo dico io purtroppo potete vedere solo le finestre ma fuori c'è il mondo la Puglia è pronta ad accogliervi per le vacanze di Natale e colgo l'occasione per dirvelo però non si devono fare feste in piazza senza eccessi senza eccessi mi fermo qua arrivederci la linea torna a Milano a Milano a Milano Grazie a tutti.